Io sono Frank Cinelli, oggi sono a Roma nella mia città, sono negli studio di Group Farm per questa live session di 12 Label. Sono qui con i miei due musicisti da Londra, la mia band, Laurence Haywood e Drew Manley. Siamo in tournée in Italia, siamo qua per due o tre settimane di concerti e oggi sono a Roma, il nostro day off, uno dei due day off di questa tournée abbastanza lunghetta, però molto divertente e oggi stiamo facendo una session. Sono molto contento di essere qui, Roma è la mia città, io sono nato qui a Roma e poi sono cresciuto a Londra e faccio questo di lavoro, sono molto fortunato per poter dire che questo è il mio lavoro, sono un cantautore, però fino a 12 mesi fa l'ho fatto esclusivamente in Inghilterra e in America. Da un paio d'anni che giro, che suono, ho fatto un paio di dischi e l'anno scorso è uscito il mio ultimo album, l'ultimo LP che si chiama I have not yet begun to fight e niente, sono venuto in Italia per la prima volta a fare dei giretti, delle tour e sta andando molto molto bene. Vi invito ad andare a ascoltare il disco, vi invito ad andare nel vostro, andate a cercare il vostro negozio di dischi più vicino e chiedeteli dei dischi. I negozi di dischi sono importantissimi per tutti noi che amiamo la musica, come sono i club live, come sono gli studi di registrazione. Perciò se amate la musica vi invito ad andare a cercarli ancora di più. Io sono Frank Cinelli e oggi sono qui. Ciao Roma e ci vediamo domani sera per il mio concerto. Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti